Palla a mano, Team Network Albatro perde in trasferta in Lombardia contro lo scomodissimo Cassano. Una partita molto complicata, Cassano-Magnago è una squadra molto ostica rispetto all'anno scorso, ha migliorato la Rosa e la Team Network Albatro, nonostante il suo nuovo marcatore, perde per 27-21 nella quinta giornata di ritorno della Serie A Gold. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con un primo tempo da dimenticare che pregiudica l'intera prestazione. Avvio vehemente dei padroni di casa che dopo poco più di 12 minuti si ritrovano sul 9-1 al loro favore. Primo parziale che i seragosani tentano di recuperare nell'ultima parte con i Lombardi che comunque riescono a tenerli a distanza. Nella ripresa la Team Network Albatro inizia a costruire rete dopo rete un costante recupero che li porta a sfiorare il meno due. Il portiere di casa arriva, ci mette più di una pezza e consente ai suoi compagni di rimettere distanza per portare a casa la vittoria. Partita che si chiude a due minuti dalla sirena con il Cassano che pensa a sfruttare qualsiasi errore dei seragosani e capitalizzare al meglio tutte le occasioni. Buona la prima per il neo arrivato Riccardo Gans, risultato alla fine il migliore marcatore tra gli uomini di Puch Jung con 5 reti. Grazie a tutti.